Noi iniziamo con il premiare le aziende, vi dicevo divise per territorio, le vedete che sono già lì, stiamo parlando del comprensorio Verona e Lago. A questo punto inviterei sul palco, proprio per premiare queste aziende, Nicola Baldo e Paolo Arena, se possono venire qui sul palco, mentre possono entrare, credo, e salire le aziende del comprensorio Verona e Lago, hanno già, come vedete, la pergamena e una volta sul palco, le accogliamo anche subito già con un applauso, una volta sul palco potranno ricevere questa scultura in marmo. Allora, sono 98 i premiati, per cui avremo modo anche di scambiare qualche battuta, intanto io parto subito con il primo riconoscimento, restiamo sempre naturalmente a favore della nostra platea, che è all'agenzia Dalle Crode di Riccardo Dolci e Federico. È una storia interessante, perché la storia di questa azienda nasce, pensate, nel 1953, da un'intuizione del bisnonno, della nonna, siamo andati un po' oltre, vabbè, perché qui ci dicevano del bisnonno che faceva il vigile, poi, perché è lì, parte dal bisnonno che fa il vigile e che suggerisce alla figlia, Idelma, eccola qui, che è la nonna degli attuali titolari, di dedicarsi al mestiere delle pratiche auto e pensate che nei primi anni questa attività veniva svolta sui tavoli del bar, sull'Iston, per cui la gente andava lì e in pratica eseguiva queste pratiche. Successivamente poi venne aperto un ufficio in via Fratta, poi in piazza Renato Simoni, dove rimase per circa 30 anni, nell'attività vennero inseriti il figlio della signora Idelma, Luciano Dolci, e successivamente i nipoti Riccardo e Federico, e l'azienda attualmente ha due sedi, una in via Albere e una in via Torricelli. Il premio a questo punto è per Riccardo Dolci. Ecco, c'è la foto, magari giriamo, poi all'uscita, perché pesa, è in marmo rosso di Verona, non è che possiamo stare lì con la sede della Camera di Commercio. Grazie dunque all'Agenzia Dalle Crode. Abbiamo ora Paolo Bonadimana, eccolo qui, dal 1979, lavora come meccanico elettrauto specializzato, però possiamo fare anche un passo avanti, eccolo qua, nella revisione e riparazione di impianti di iniezione, sia di quelli di tipo tradizionale, sia di quelli di ultima generazione, negli autoveicoli diesel. È un grande appassionato del suo lavoro, e come da tradizione familiare ha trasmesso questa sua passione al figlio Alessandro, che collabora con lui in azienda. Paolo Bonadimana dunque riceve il stretta di mano da Nicola Baldo, la pergamena e poi naturalmente la scultura in marmo rosso. Perfetto. E ora andiamo con Pietro Paolo Casarotto. Allora, impianti di antenne satellitari, dal 1980 che ha aperto la sua attività, la clientela che è formata da privati, ha lavorato anche con strutture organizzate, progettando anche, che cosa ha progettato? Una monocavo, dov'è il microfono? Che Mari ci spiega che cos'è. È un monocavo coassiale specifico in un impianto terrestre satellitare. Gabriella, dov'è il microfono? Sì, sono sistemi di alto livello, dove sul stesso cavo si può far viaggiare sia le quattro bande satellitari, sia il digitale terrestre. Per cui il futuro, eccolo qua, è già presente e noi lo ringraziamo e gli facciamo i complimenti. Pietro Paolo Casarotto riceve dalle mani di Paolo Arena la pergamena e lo ringraziamo naturalmente e poi andremo con la consegna. Allora, qui abbiamo... beh, qui giochiamo in casa. Eccolo qua. Allora, perché questo signore è il papà. Prego, venga qui avanti. Sì, è il papà. Tenga il microfono del consigliere della Camera di Commercio, Franca Castellani, che oggi è presente in sala e che sarà, immagino, particolarmente orgogliosa del papà. Gianfranco Castellani, perché i fratelli Gianfranco, Angelo e Afro iniziano la loro attività come coltivatori diretti. Stiamo parlando del 1957. Erano bei tempi, signor Gianfranco. Eh, lo so, purtroppo. Perché erano bei tempi? Stava meglio l'ora. Eh, quasi, perché adesso è cambiato un po' l'agricoltura, ecco. Ho capito. Poi avete proseguito l'attività paterna, avete impostato sin dall'inizio un'azienda frutticola di allevamento di vacche da latte e subito dopo una sezione di allevamento avicolo con Aia. Poi negli anni successivi l'azienda si è ampliata, aperto alla vendita diretta grazie ai figli, fondatori tra l'altro del consorzio di vendita diretta a Veronatura. Il signor Gianfranco, pensate, si è distinto anche per la sua attività nell'ambito di enti e associazioni che tutelano il settore agricolo e oggi riceve contento questo premio. Grazie, grazie. Perfetto. Allora, c'è la pergamena, facciamo la foto anche con la figlia a questo punto, Gianfranco e Angelo Castellani della Società Agricola Semplice di Verona e ricevono naturalmente il vostro applauso e la pergamena e la scultura in marmo. Poi abbiamo Franco Donadello, eccolo qui, Franco Donadello che inizia la sua attività di rappresentante nel 1997 per conto di un molino. Che cosa fa di bello? Vendo farina. Allora, vende farina, alimenti e panifici e laboratori di pastecceria, industrie dolciarie, pastifici e rimeditori di farine. Esatto. Perfetto, l'applauso e naturalmente i complimenti a Franco Donadello. Qui adesso andiamo, tutti meriterebbero come immaginate, però abbiamo anche dei tempi un po' contingentati. Però i fratelli Dalzovo, ve la ricordate chi è in Borgo Trento o quelli insegna? Fratelli Dalzovo, in via 4 novembre è cambiato tutto perché prima c'erano tanti negozi e adesso ci sono tante banche, però fratelli Dalzovo c'è sempre. Allora, tenga il microfono perché magari ci racconterà anche qualcosa della sua attività perché la fratelli Dalzovo, il signore Armene Gildo, giusto? Sì. È in attività da lontano 1958, l'apertura è di un piccolo negozio, prima in centro storico e poi di seguito l'apertura della rivendita di via 4 novembre. Ma si ricorda proprio i primi momenti? Senz'altro. Così era la prima bottiglia? Tenga magari... Sì, anche perché nel 1958, quando ho aperto, adesso hanno fatto un garage, tanto per cominciare. Ho preso un'azienda che era fallita. E secondo luogo, anche perché a quei tempi non si conosceva, andò era Piacetti Dal Bosco, perché avevo gli amici che mi dicevano, andò al negozio, dove si trova? E da lì sono partito. Poi l'è andato in via 4 novembre dove c'erano campi però in quel periodo. Sì, in quel periodo, sì. La prima era la sua. Esatto, esatto. Oggi siamo arrivati a questa organizzazione, dal bicchiere di vino all'autotreno. Ho capito, perfetto, benissimo allora. Fratelli Dal Zovo, dal 1970, il grande spazio anche in Viale della Repubblica. Vengono proposti vini, liquori nazionali e internazionali. Oggi naturalmente è fiero dei successi conseguiti e ha tramandato la sua passione anche ai figli che conosciamo e salutiamo. Grazie a Ermene Gildo Dal Zovo dunque. Allora, adesso abbiamo un tassista. Perché sta così subito? Qui c'è, è andato via Ambrosini? Quindi può parlare? Ah no, c'è, per cui attenzione a parlare del traffico. Allora, il signor Antonio Lanza, gli facciamo un applauso perché Antonio Lanza ha avuto sempre la passione per la sua guida e per la sua città. Chissà quante cose avrà detto agli assessori al traffico qualche volta guidando. No, a parte qualcuno che... Che non c'è più, però quelli di oggi sono bravi. La città si guida bene. No, dobbiamo ancora conoscerlo perché ha preso il posto di... Lei ogni giorno vive le strade, vive le storie, vive gli imprevisti. Io ho cercato di essere un biglietto da visita buono per la città. Quando arrivano i turisti e mi chiedono i ristoranti, cosa c'è da vedere, ho sempre cercato in questi ultimi 40 anni di... No, perché è vero, tra l'altro, quando noi anche andiamo nelle altre città, insomma, il tassista è quello che può davvero raccontare anche i segreti di una città. Lei magari ha trasportato anche qualcuno di famoso? Sì, senza altro. Ci ricorda qualcuno? Solo di giorno si portano persone che chiedono i monumenti, di notte altre cose, ma comunque... E anche lei lì dà le informazioni. Esatto. Eh, vabbè, insomma, a 360 gradi. Qualche VIP l'ha portato? Sì, sì. Si ricorda qualcuno, magari? No, a dire la verità, no. Qualche imprevisto, strano, no? Sì, beh, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Va bene, ho capito, va bene. Però il traffico era meglio... No, no, adesso è meglio. È meglio adesso? Sì, con l'avvento della ZTL, cioè il traffico è più... Assessore, è una giornata, ha fatto giornata, come si dice. Va bene, grazie. Lei è attivo anche nell'associazione di categoria CNA ed è membro dell'organo di direzione. Per cui facciamo l'applauso e consegniamo il riconoscimento ad Antonio Lanza, il nostro tassista, che è il primo a promuovere l'immagine della città. È importante, naturalmente, il ruolo dei tassisti. Grazie. Qui abbiamo Paolo Pandian. Eh, anche qui, qui è festa, perché parliamo di confetti. È così. Nel 1977 viene rilevata dal signor Paolo la confetteria, che esiste già dagli anni 30 nella centralissima Via Roma. E in tutti questi anni confetti, dolciumi, ma anche confezioni e vendita di bombonieri in un negozio che ha soddisfatto la golosità di ben tre generazioni di famiglie veronesi. E credo che è sempre festa con voi. Sì, è sempre festa, perché la dolcezza non ha mai fine, ecco. Posso dire solo una cosa, che è 35 anni che batto il marciapiede di Via Roma. Insomma, qua abbiamo iniziato questa china, chissà dove ci porta. Ho battuto anche la piazza Bra, ho battuto tanti marciapiedi ed sono stati anni meravigliosi. Però tutti si stringono intorno a me oggi, intorno a noi operatori, il comune, le istituzioni, tutti si stringono. Ma voglio che si stringano anche gli altri 364 giorni dell'anno, non solo oggi, mi raccomando. Perfetto, la bomboniera è partita. Grazie allora anche a Paolo Pandian, è giusto anche il suo richiamo.